ciao a tutti oggi di nuovo una ricetta facile e faremo i pancake perché fare pancake facilissimo servono soltanto quattro ingredienti quelli che abbiamo tutti quanti in casa servirà del burro un uovo la farina lo zucchero e servirà anche un pizzico di lievito che può essere un lievito vanigliato oppure lievito a base di bicarbonato vedete voi quello che avete a casa vi servirà anche come attrezzatore una padellina un mestolo e una frusta per prima cosa rompiamo l'uovo in una ciotola aggiungiamo tre cucchiai di zucchero e circa tre cucchiai di farina non servono di più cominciate con la frusta a sbattere insieme tutti questi tre ingredienti in modo da fare una crema abbastanza morbida scaldate a bagnomaria il burro mettetelo da parte in una ciotola a parte in modo che si raffreddi e continuate a sbattere ancora l'impasto deve assorbire aria mettete una puntina di lievito non ne serve moltissimo circa una proprio una punta di cucchiaio aiuterà a far crescere il pancake continuate ancora sbattere la frusta importante se avete una frusta elettrica farete molto prima a questo punto prendete il burro fuso che non sarà più caldo e quindi sarà ottimo per essere incorporato nel nostro impasto dei pancake sbattiamo ancora deve diventare fluida e filante a questo punto lo mettiamo nel nostro pentolino imburrato e scaldato dobbiamo fare la classica forma del pancake quindi rotonda lo facciamo cuocere bene da una parte e dall'altra e lo mettiamo nel piatto per guarnirlo io vi consiglio la frutta fresca un po di marmellata e un po di cocco rapè